Siamo a Rimini con Vincenzo Fanelli, autore di Fama Internazionale, Master Trainer, Master Coach in PNL. Quali sono le motivazioni che l'hanno portata a interessarsi e a studiare questi argomenti? Allora, sono state diverse le motivazioni che mi hanno portato ad approfondire la comunicazione, la programmazione erolinguistica, tutto quello che ha a che fare comunque con le potenzialità umane. Sicuramente la cosa più importante è stata la curiosità, la voglia di scoprire come funziona un po' la mente umana, ma soprattutto quali sono le potenzialità dell'essere umano, perché spesso è come quasi se ci fosse una volontà a fare in modo che la gente non scopra davvero quale sia il proprio potenziale. Adesso non voglio parlare di complotti, non sono il tipo, però sembra quasi che si voglia che la gente non liberi al massimo il proprio potenziale. E poi anche la voglia di risolvere i miei piccoli e grandi problemi e quindi capire come era possibile migliorare la comunicazione con gli altri, cercare di raggiungere i propri obiettivi nella vita, migliorare la propria esistenza. Quindi tutto questo mi ha portato a intraprendere un percorso dove, sì, ho fatto programmazione erolinguistica, comunicazione, ma anche mi ha interessato molto la meccanica quantistica, tutto quello che in generalmente ha a che fare proprio con la capacità dell'uomo di riprendere in mano la propria esistenza. La comunicazione è una parte fondamentale di ogni rapporto umano. Cambiando la modalità di comunicazione si cambia anche la qualità del rapporto? Assolutamente. Diciamo che il buon comunicatore è responsabile al 100% dei risultati che ottiene o che non ottiene. Questo significa che nel momento in cui cambio strategie con una persona sicuramente avrò un cambiamento anche nell'altro. Non è possibile ottenere dei cambiamenti fuori se prima non cambiamo noi dentro. La comunicazione è anche una sfida personale a cambiare le proprie strategie e quindi significa cambiare, quindi significa cambiamento. Uno degli errori che spesso vengono commessi è pensare che vado a fare un corso di comunicazione, mi insegnano due o tre strategie, però io rimarrò sempre come sono sempre stato. È vero, si rimane se stessi di fondo, ma c'è un miglioramento, c'è un cambiamento e questo è importante perché questo significa migliorare proprio la propria rete di relazione e quindi anche la propria vita e la vita degli altri. Quindi cambiando la modalità, le strategie di comunicazione si cambia anche se stessi, quindi è un percorso di crescita che si va a fare? Assolutamente sì, è un percorso di crescita, infatti nei corsi generalmente si affianca la comunicazione efficace anche a tecniche di cambiamento personale. Se una persona è timida non gli bastano tecniche di comunicazione per rompere il ghiaccio con sconosciuti o, ad esempio, a me capita, non so, magari viene da me qualche ragazzo e mi diceva, ma io sono timido con le ragazze, non so come presentarmi, ma non gli bastano tecniche di comunicazione. Ha comunque bisogno di lavorare su quelle che possono essere, per esempio, le convinzioni che lo limitano a presentarsi, magari andare lì e presentarsi da una ragazza, oppure semplicemente una persona che non sa come rompere il ghiaccio con persone appena conosciute. Può succedere che magari qualcuno, a furia di ripetere queste strategie, possa in qualche modo cambiare in maniera indiretta dentro se stessi. Però ecco, l'equilibrio nella vita va raggiunto sia apprendendo delle strategie di comunicazione, sia mettendosi in discussione e capendo che ci sono delle cose che magari arrivano cambiate all'interno di se stessi. Grazie mille.